Un saluto a tutti gli amici di Sintra Consulting da Enrico Erba, Sales Manager della Sintra Consulting. Nella newsletter di questo mese vi presenteremo il nostro nuovo prodotto B2.0 che si basa sull'Enterprise 2.0. L'Enterprise 2.0 apre definitivamente la strada ad un nuovo modo di pensare l'azienda fondato su un coinvolgimento diffuso, una collaborazione emergente, una condivisione della conoscenza, una mobilità globale, uno sviluppo e valorizzazione di reti sociali interne ed esterne all'azienda e un'integrazione dei sistemi T. L'offerta B2.0 si caratterizza per una suite di web application modulari che possono essere anche implementati separatamente in funzione delle specifiche esigenze dell'azienda, garantendo integrazione con applicazioni e piattaforme di business management, unico punto di accesso ai vari servizi, profilazione degli utenti con permessi, visibilità sui contenuti e ruoli definibili e integrazione con l'anagrafica aziendale. La tecnologia B2.0 si basa sull'architettura SOA Service Oriented in grado di offrire adattabilità, flessibilità e apertura nella gestione ed integrazione di tutti i sistemi T aziendali. La SOA permette alle varie applicazioni software di un'azienda di interagire tra loro. La tecnologia B2.0 si basa su attività di tipo oriented, in particolare si può permettere all'utente di fare un accesso autenticato, di fare una profilazione, di integrare tutti gli applicativi e le piattaforme di business management e permette una condivisione di dati e di informazioni. Vi elenchiamo alcune applicazioni di B2.0. È possibile archiviare e condividere documentazione aziendale, integrare comunicazione, raccogliere e valorizzare le idee e le competenze interne all'azienda, coprogettare prodotti e servizi, team building, test di prodotto e servizio nel mercato, analisi del clima interno aziendale, gestire le PR aziendali, sistemi di videoformazione condivisa, gestire le risorse umane aziendali e gestire il customer care dell'azienda. Alcuni vantaggi del B2.0 sono a livello aziendale, maggiore velocità di accesso alle informazioni, riduzione dei costi di comunicazione, diminuzione dei costi di viaggio dei dipendenti, quindi del personale, maggiore soddisfazione degli impiegati, collaboratori e dei partner, diminuzione dei costi di sviluppo dei prodotti e un incremento delle idee e delle innovazioni all'interno dell'azienda. I vantaggi derivanti dai rapporti con i clienti sono l'aumento della soddisfazione dei clienti stessi, la riduzione dei costi di marketing e di supporto e la riduzione del time to market. Per avere maggiori informazioni contattate il sito di Sintra Consulting. Sintraconsulting.it Grazie, alla prossima newsletter. Grazie.